bella a tutti ragazzi bentornati nel dar channel io sono tarpucci e benvenuti in questo nuovo vlog ragazzi come avete visto anche dall'inizio del video ci troviamo sopra gli scogli ragazzi che spettacolo guardate qua mi trovo al mare ragazzi per registrare tra l'altro con la gopro senza la protezione sperando che si senta meglio l'audio perché con le protezioni penso che non si senta un bel niente comunque ragazzi torniamo a noi sono tornato ragazzi adesso ricomincerò a caricare i video finalmente questo vlog serviva più che altro per dirvi che Clark è tornato ragazzi e ricominciamo a caricare nuovi video ricominciamo a fare tutto quando l'attività sul canale ricomincia arriverà una nuova serie su minecraft innanzitutto cosa molto importante perché manca da tantissimo sul canale fatemi sapere nei commenti voi se volete che io continui la serie di Saints Row 4 quella in coppica il 97 basti che lasciate un commento e mi fate sapere cosa preferite io spero che senta bene il rumore delle onda non copra più di tanto la mia voce infatti sto cercando di parlare anche per l'altra volta mi staranno guardando tutti quanti malissimo perché è un ufficio che parla una fotocamera da solo ma sono dettagli ragazzi poi cos'altro dirvi che io dal 14 agosto fino al 24 agosto partirò per il 20 piccaceca a Braga quindi ragazzi vi porterò con me ovviamente vi porterò tutti i video registrati ovunque andrò vi porterò con me anche l'albergo vi farò vedere la stanza tutto quanto quindi anche questa attiva cantina ma nonostante tutto adesso in questi giorni anche se manca poco oggi abbiamo il 10 agosto in cui sto registrando questo video appunto mi impedirò farò tutto quanto è possibile per non lasciarvi senza video tra l'altro ragazzi fatemi sapere se vorrete una serie sul Batman uno dei vari Batman che volete voi perché sinceramente li ho acquistati tutti i parti quindi non ci sono problemi qualsiasi Batman volete voi oppure ancora meglio se volete che faccia diciamo una storyline non seguendo l'uscita dei giochi ma quando seguendo la storia ragazzi posso fare anche tutti quanti questi giochi inoltre ultimamente ho anche acquistato Rainbow Six Siege quindi se volete qualche video magari anche qualche sfida con gli operatori e cose del genere lo posso sottare tranquillamente ah tra l'altro se questo video raggiunge una bella somma di like ragazzi vi porterò un vlog in canoa prenderò la canoa me la spifferò e vi porterò questo vlog poi che altro dite ragazzi diciamo che queste sono le informazioni principali che dovevo darvi vi ricordo di mettere un bel pollicione in su iscrivere e commentare e noi ci vediamo nel prossimo video ciao a tutti